Ciao ragazzi, continuano le nostre video lezioni per Storia di Quarta, oggi vediamo un momento molto importante per la nostra nazione e anche un momento abbastanza complesso, cioè il risorgimento, quindi quel processo che porterà all'unificazione dell'Italia vera e propria, che avverrà contestualmente il 17 marzo 1861, la data scelta come data dell'Unità d'Italia, ma sarà un processo che vedrà uno sviluppo ben più lento, ne avevamo già parlato con i moti in particolare degli anni 30 e i moti del 1848, in Italia si stava sviluppando un movimento sempre più pressante di unificazione. Era però un movimento che riguardava una strettissima cerchia, un'elite culturale abbastanza piccola, se pensate anche a Foscolo, Manzoni, che ritenevano fondamentale che l'Italia si distaccasse dal dominio straniero e comunque diventasse uno stato unificato, ma a questa cerchia ristretta culturale si collegavano poi l'alta borghesia, che però era formata da un esiguo numero di persone che la pensavano allo stesso modo, anche perché dovete pensare che l'Italia, e l'abbiamo visto, praticamente dalla caduta dell'impero romano in poi è sempre stata divisa e quindi ogni signore che governa il proprio stato nel 1848 ha i propri interessi. Dopo il 1848 abbiamo una seconda restaurazione in Italia, nel senso che tutti coloro che hanno subito le rivolte si comporteranno in maniera molto repressiva nei confronti della propria popolazione. Ovviamente l'impero austro-ungarico che posiziona Radeschi a capo di Milano e del Veneto avrà l'atteggiamento più repressivo di tutti, essendo stato inizialmente, se vi ricordate, nelle 5 giornate di Milano sconfitto. Ma anche il Gran Ducato di Toscana si comporterà in maniera repressiva, come il re Ferdinando nei territori borbonici e perfino il Papa, perché si temeva una terza, una data di rivolte quarta in alcuni territori e si temeva che questi processi portassero poi a un pensiero che era quello che si stava in realtà formando, soprattutto nelle fasce intellettuali, di unificare i territori. Calcolate che la situazione italiana poi la vedremo meglio nelle ultime lezioni quando tratteremo proprio del primissimo periodo di unificazione. È in una situazione molto molto particolare perché c'era una differenza di linguaggio in quanto si parlava più che altro il dialetto. Il linguaggio, diciamo, l'italiano come lingua sarà poi una lingua che si svilupperà in ambito perfettamente elevato inizialmente. Poi una differenza a livello economico, in particolare nei territori tra nord e sud, è una differenza anche sociale e si comincia a percepire un bisogno di maggiore unità, anche perché c'erano dei dazi e delle dogane in un territorio assolutamente inferiore. La cosa positiva è che, ad esempio, il Regno Savaudo non avrà mai questo atteggiamento repressivo. Sarà l'unico Stato che, invece di rispondere con la repressione, cercherà in qualche modo di salvaguardare le riforme che erano avvenute dopo il 1848. I pensatori principali del risorgimento seguono due correnti, ossia quella repubblicana e quella moderata. Diciamo quella più rivoluzionaria in cui rivediamo soprattutto la figura di Giuseppe Mazzini, che è il primo che vedete in alto, alla mia sinistra. Giuseppe Mazzini, ne avevamo già parlato l'altra volta, è uno dei personaggi fondamentali del risorgimento, in realtà lui proporrà una visione legata in parte anche alla visione giacobina, però non così strutturale e suddivisa in classi come era quella giacobina, ma lui ritiene fondamentale che l'Italia si unifichi e diventi una repubblica. Fonda infatti il gruppo giovane Italia che vuole appunto proporre un nuovo sistema di governo, una repubblica, vuole introdurre il suffragio universale, cercare di dare una suddivisione più omogenea anche delle ricchezze, ma non basandosi sul pensiero socialista, lui non voleva che chi aveva un determinato tenore di vita ne venisse meno. Era una visione diciamo più liberale, più democratica rispetto alle visioni che c'erano in quel momento. Come lui anche Cattaneo, che invece è l'ultimo signore che vedete pelato con i baffi alla mia destra, anche lui ha una visione repubblicana, entrambi non vogliono avere un monarca, però mentre Mazzini propone una visione di una repubblica unita, Cattaneo propone una federazione nei modi diciamo di quella statunitense, cioè che ci fosse in qualche modo un governo centrale e poi ci fossero tanti piccoli stati, stati regioni che governavano su determinati ambiti, avevano le proprie funzionalità, le proprie decisioni. Mazzini che sarà il principale pensatore del risorgimento, quello ricordiamo maggiormente, però ne avevamo già parlato perché lui cercherà con il suo gruppo di fomentare un'azione più rivoluzionaria e a differenza di molti pensatori dell'epoca infatti lui dirà che sarà fondamentale per arrivare all'unità cercare di fare una rivolta popolare, cose che avverranno ma senza portare buoni frutti, ricordiamo infatti le rivolte del 1830 in Italia. Oltretutto il pensiero mazziniano interesserà solamente i territori della Lombardia, della Liguria, lui Genovese e della Toscana e la media borghesia, non interesseranno né l'alta borghesia che aveva più un pensiero liberale, né gli stati sociali più bassi, tanto che ci saranno delle rivolte come quelle dei fratelli Bandiera che cercheranno nel sud Italia di far muovere, far rivoltare la popolazione, invece otterranno il contrario, che i contadini non combatteranno mai contro i loro signori. Pensieri più liberali e meno riformatrici sono quelli di Gioberti, che è il signore che vedete alla sinistra di Mazzini, al centro abbiamo invece Cesare Balbo e poi D'Azzelio. D'Azzelio in realtà scriverà riguardanti i moti del avvenuti a Rimini, un piccolo libercolo in cui dirà che sarà fondamentale in qualche modo che ci sia non una rivolta, ma che l'unità venga attraverso una riforma graduale e con l'aiuto di una monarchia che si faccia portavoce degli italiani, lui d'altronde diventerà poi il primo ministro del governo Sabaudo, quindi deve capire. Gli altri due invece propongono una confederazione. Gioberti, cattolico, fuggito dai territori Sabaudi perché è considerato sovversivo nei suoi pensieri, infatti proponeva una confederazione tra gli stati, in modo che gli stati mantenessero in qualche modo il proprio governo, ma con a capo della confederazione il Papa, infatti si parla di una confederazione neoguelfa, un partito neoguelfo, quello fondato proprio da Gioberti a Bruxelles. Invece Balbo ritiene che si debba fare una confederazione per mantenere in qualche modo gli stati suddivisi tra di loro, riconoscendone la diversità, ma mettendo a capo di questa confederazione il re Vittorio Emanuele, cioè il regno Sabaudo. Allora, in realtà questa situazione non si avvererà a nessuna delle situazioni proposte, o meglio, come vi dicevo, il regno Sabaudo è l'unico che in qualche modo si dimostra aperto a eventualmente cambiamenti, non risponde con la repressione in questi atti che c'erano stati di rivolta, ma capisce che c'è una società che si sta modificando. Vittorio Emanuele II sarà il re che porterà all'unità d'Italia, ma tutto deve al suo primo ministro, Camillo Benso Conte di Cavour, che in realtà diventerà ministro nel 1852, prima è ministro dell'agricoltura, dopo le leggi Saccardi che sono state firmate appunto dal ministro Saccardi, le proposte infatti fatte erano talmente rivoluzionali, si parlava addirittura dell'introduzione del matrimonio civile e di diminuire il potere della Chiesa all'interno del regno Sabaudo che D'Azzeglio, che in quel momento era il primo ministro, è costretto a rinunciare all'incarico e a sciogliere il governo. A questo punto il re che cosa fa? Dà il governo in mano a Camillo Benso, che era un liberale considerato comunque una persona che aveva anche contatti con le grandi monarchie, ma che cercava di in qualche modo riunire sotto la sua ala i gruppi più moderati. Infatti si parla durante il governo di Cavour del cosiddetto connubio, perché lui la prima cosa che fa è cercare di allontanare le ale di estrema destra e di estrema sinistra del Parlamento per unificare sotto la sua visione le ale moderate della destra e della sinistra, in modo che avesse una maggioranza abbastanza importante. Lui riteneva fondamentale che il regno Sabaudo si impegnasse all'unificazione italiana, ma attraverso l'appoggio degli stati stranieri, perché sapeva benissimo che l'Italia da sola non ce l'avrebbe fatta, soprattutto perché il grosso nemico, e questo lo riconoscevano anche i pensatori di cui vi ho parlato prima, era l'impero austro-ungarico. Allora, in realtà sotto il governo di Cavour ci sono grandi ampliamenti nel regno Sabaudo, ad esempio viene allungata di quasi 800 km, più di 800 km la ferrovia che prima contava 54 km, pensate arriva a più di 900, circa 950 km. Vi è una riforma agraria e anche una riforma a livello monetario per cercare di eliminare anche il debito pubblico che si era creato, in più si rafforza la Banca Nazionale. Cosa fondamentale, Vittorio Emanuele II mantiene la Costituzione che era stata firmata, cosa che dimostra che in qualche modo si fa portavoce delle istanze innovative che si stavano creando in quel momento. Cavour fa un passo fondamentale, che è quello di partecipare con un piccolo contingente alla guerra di Crimea. Questo perché? Perché alla conferenza di pace di Parigi, lui così può portare nel 1856 la situazione italiana sul banco, che avrà sicuramente meno importanza rispetto alla guerra in sé, ma sarà fondamentale perché per la prima volta si parlerà del problema dell'unificazione italiana. Il suo apporto oltretutto permetterà quindi di poter richiedere un eventuale aiuto, in particolare alla Francia, che sarà con Napoleone III la prima a partecipare e aiutare. La situazione però inizialmente, per quanto venga ascoltata la visione di Cavour, non è in realtà considerata tanto importante quanto in realtà era la situazione in Italia. Anzi, bisognerà aspettare in realtà un atto di per sé, potremmo dire, quasi in controsenso rispetto a quello che vi ho detto finora, nel senso che mentre Cavour fa questo, scoppiano in Italia una serie di piccole rivolte, in quanto la parte democratica cercava ancora di farsi sentire, in particolare Pisacane prova a far ribellare a Sarpi la popolazione contadina, ma in realtà la popolazione non si ribella e lui viene ucciso. Quindi si cercano di far riscoppiare quelli che sono dei piccoli moti insurrezionali, ad esempio anche a Milano, ma che non ottengono il risultato sperato. In più nasce sotto la guida di Manin e poi di Giuseppe Lafarina, che sarà comunque un personaggio importante del governo Cavour, la società nazionale italiana. Questa situazione, quindi vi dicevo, paradossale perché l'Italia aveva aiutato ad esempio la Francia nella guerra di Crimea, ma sembrava che la Francia non si interessasse a questi moti che creavano una certa difficoltà, anche al governo di Piemonte di poter proseguire con la propria idea di unità, in realtà avviene un fatto che porta in qualche modo lo scoppio della seconda guerra di indipendenza, l'inizio dell'unità d'Italia. Perché? Perché l'anarchico Orsini a Parigi nel 1858 attenta la vita di Napoleone III, quindi paradossalmente i nemici che stavano facendo le guerriglie in Italia, che non erano visti di buon occhio da Cavour, aiutano il governo piemontese ad ottenere l'appoggio francese, perché l'attentato a Napoleone III è la scusa presa da Cavour per dimostrare come sia difficile in Italia riuscire a venire fuori da questa situazione di continue rivolte. Quindi paradossalmente le rivolte che erano fatte contro anche lo stesso Cavour, perché i rivoltosi erano persone che volevano avere la Repubblica, lo aiutano a far sì che la Francia entri in guerra. Che cosa succede? Che tra il 1858 e il 1859 si va verso la guerra. Vi ho messo qui una cartina dove vedete come era l'Italia dopo i morti del 1848 e vediamo poco alla volta che cosa succede fino ad arrivare al 1861. Allora, la Francia decide di appoggiare l'Italia, benché anche questa posizione non fosse particolarmente amata ad esempio dalla Chiesa, ma che cosa succede? Che la viene da un ultimatum al Piemonte dopo che il Piemonte ha cominciato a fare delle continue provocazioni con delle manovre militari e con la richiesta di arrollamento da parte di alcuni abitanti di Milano e del Veneto. La seconda guerra di indipendenza però, che vede anche l'introduzione di una figura importante, che è quella di Garibaldi, con il suo corpo dei cacciatori delle Alpi, comincia bene per il regno sabaudo. Infatti, soprattutto grazie ai cacciatori delle Alpi, si ottengono le prime vittorie a San Fermo, a Magenta, a San Martino, ma improvvisamente Napoleone III decide di firmare un armistizio, l'armistizio di Villa Franca, l'11 luglio 1859. A questo punto si arriva alla pace di Zurigo in cui l'Austria cede alla Francia la Lombardia, non il Veneto ma la Lombardia. E a questo punto che cosa succede? Che Napoleone cede i suoi territori, i territori appena conquistati dalla Lombardia, al regno sabaudo. Il problema qual è? Che l'Italia centrale comincia a sollevarsi. Il Gran Ducato di Parma, quello di Modena, Toscana e le Legazioni, pontifici dell'Emilia sostanzialmente, e cominciano a voler essere, cioè vogliono anche loro entrare a far parte del regno che si stava creando. E praticamente inizialmente che cosa succede? Che si crea un problema per il regno sabaudo. Perché? Perché da una parte creerebbe delle difficoltà a livello diplomatico, in quanto la Francia non è molto contenta di questo allargamento di questo Stato, ugualmente l'Austria ovviamente. Dall'altra però Vittorio Emanuele è diventato il simbolo il re della liberazione, non può quindi deludere gli abitanti di queste città. Viene indotto così un plebiscito nel 1860, in cui i cittadini di Parma, di Modena, delle Legazioni e della Toscana si esprimono e decidono di entrare a far parte del regno sabaudo. Vedete il regno sabaudo, a parte la prima cartina che è quello in verde, è quello in arancione, vedete nel 1859, 1860 con l'annessione di Milano e poi dei territori, però non finisce qui. In Sicì, quindi in questo momento, nel 1860, voi avete l'arancione che è il regno sabaudo, il blu sono i territori rimasti in mano agli austriaci, il rosso è il territorio pontificio, il sud è tutto in mano ai Bormone. Che cosa succede? Che nel sud proprio cominciano a ribellarsi i borghesi, in particolare abbiamo le rivolte di Crispi e di Pino nel 1860, ma diventa fondamentale per la liberazione del sud la figura di Giuseppe Garibaldi, chiamato l'eroe dei due mondi perché lui era italiano, ma era un vero e proprio condottiero, era andato anche nel Sud America ed era tornato proprio per l'unificazione italiana. Il 5 maggio del 1860 lui parte da Quarto, che è una piccola cittadina della Liguria, in direzione Sud, in direzione Sicilia. Si ferma solo a fare rifornimento all'isola del Giglio per poi ripartire, come vi dicevo, scende, arriva Marsala l'11 maggio, quindi sei giorni dopo e insieme a sé ha i cosiddetti mille, questi giovani che hanno la caratteristica di avere la giubba rossa e comincia un processo di liberazione prima della Sicilia con l'invasione poi di Palermo, poi di Milazzo e poi successivamente anche dei territori peninsulari. In realtà sappiamo che lui cercherà, si dichiarerà dittatore di questi territori in nome della Corona Sabauda e cercherà di fare una riforma sociale, non sempre però riuscì ad ottenere un numero, diciamo, rilevante di soldati che parteciparono, di abitanti dei siciliani che parteciparono a queste rivolte. Anzi, addirittura si ricorda che Nino Bix, ad esempio, è stato costretto a una repressione dei contadini che si erano ribellati, perché come vi dicevo anche prima, come era stato per i mazziniani, il problema era che al sud i contadini erano fortemente legati ai loro padroni e quindi qualsiasi novità per loro era qualcosa di sconvolgente e quindi la difficoltà a iniziare in Sicilia è proprio questa, cercare di ottenere il beneplacido dei contadini dimostrando che si è lì per liberarli dai borbone ed è questa proprio la prima grande difficoltà. La seconda proviene proprio dal governo, nel senso che Cavour teme lo strapotere di Garibaldi, inizialmente manda la farina a fermarlo in modo che non vada a invadere anche la penisola, ma Garibaldi si disinteressa, arriva in Calabria il 19 agosto e il 21 prende Reggio e poi sale, arriva fino addirittura a Napoli. Il problema a questo punto per Cavour è che non ci sia un problema diplomatico, nel senso che teme che Garibaldi voglia arrivare a Roma e Roma era un territorio in qualche modo particolare perché era la sede del Papa e avere a che fare con il Papa voleva dire diventare quasi nemici di tutti i paesi che lo difendevano, tra cui anche la Francia. Quindi Cavour che cosa fa? Decide una volta che ha sentito Inghilterra e Francia di mandare una delegazione di soldati che vincono a Castelfidardo le truppe papali, arriva nell'ultima roccaforte dei Borbone a Volturno dove Garibaldi ormai è riuscito a sconfiggerli e il 26 ottobre Garibaldi a Teano incontra il re Vittorio Emanuele e gli cede il Regno d'Italia. A questo punto, come vi dicevo, arriviamo alla nascita del Regno d'Italia il 17 marzo 1861 quando Vittorio Emanuele viene proclamato il re d'Italia. Il Regno d'Italia è in questo momento creato. Vedete che è tutta la zona arancione, rimangono fuori quello che era rimasto dello Stato Pontificio, quindi Roma e alcune zone limitrofe, i territori del Veneto e del Firuli che vedremo poi quando dove erano annessi, in che periodo.